Grazie Paola per la lettura. Questa mattina, come avete capito dal titolo e anche dalla lettura del testo, parleremo di una donna e guarderemo alla natività o guarderemo al Natale, se possiamo così chiamarlo, dagli occhi di una donna in particolare. Nel 1984 è stata prodotta una canzone, è stata registrata una canzone che in inglese si intitola così Mary, did you know? Significa Maria, lo sapevi? Punto di domanda. E dal 1984 sono state prodotte numerosissime versioni e tantissimi artisti hanno interpretato questa canzone e questo ha portato molte persone a chiedersi ma effettivamente Maria cosa conosceva? Cosa sapeva? Di cosa era consapevole Maria? Nella canzone il testo chiede in un certo senso a Maria lo sapevi che tuo figlio avrebbe camminato sulle acque? Lo sapevi che tuo figlio avrebbe ridato la vista ai ciechi? O avrebbe fatto camminare gli zoppi? E sicuramente Maria non sapeva queste cose nel momento in cui l'angelo gli disse del concepimento di Gesù. Ma possiamo dire oggi che sicuramente l'atteggiamento dei cristiani della cristianità verso Maria è alquanto paradossale ha generato due estremi due estremi molto molto radicali due pensieri molto radicali da un lato abbiamo l'adorazione o venerazione di Maria dall'altro abbiamo l'indifferenza o il disprezzo a volte anche verso Maria da un lato a Maria le vengono attribuite i ruoli divini come corredentrice o mediatrice dall'altro il suo ruolo viene ridotto al ruolo di mera incubatrice il suo rapporto con Gesù sarebbe semplicemente il rapporto di una donna che ha che ha incubato che ha tenuto questo figlio di Dio nel grembo per nove mesi e dopo questi nove mesi il suo rapporto con Gesù sarebbe stato praticamente nullo cosa sapeva Maria cosa credeva Maria a riguardo del figlio beh innanzitutto chi era Maria in realtà come avete visto dal titolo Miriam era un nome in ebraico abbastanza conosciuto perché la sorella di Mosè si chiamava Miriam e quando viene tradotto in greco l'antico testamento diventa Miriam Miriam ecco perché abbiamo Maria chi era Maria era un adolescente a quel tempo duemila anni fa nella cultura ebraica le ragazze venivano promesse spose prima del matrimonio e l'età nelle quali venivano promesse spose andava dai 12 ai 14-15 anni e quindi era un adolescente forse dai 14 anni perché nel giro di un anno probabilmente si sarebbe sposata un adolescente però che abbiamo letto nel testo nel capitolo 1 versetto 29 è un adolescente turbata è un adolescente scossa e noi sappiamo che già gli adolescenti in un certo senso hanno numerose domande a quell'età e Maria qui versetto 29 viene descritta come una ragazza scossa da un evento da qualcosa che avviene versetto 29 ella fu turbata a queste parole il verbo qui è molto turbata Maria è molto preoccupata 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 da cosa? beh un angelo le è appena apparso e l'ha salutata dicendo ti saluto favorita dalla grazia in latino è stato tradotto ave ave ti saluto favorita dalla grazia e quando sentì questo saluto Maria fu turbata fu molto molto preoccupata perché? perché essere preoccupati? beh perché quando nell'antico testamento apparivano gli angeli non erano spesso buone apparizioni gli angeli apparivano spesso per annunciare il giudizio di Dio gli angeli apparivano ed erano come emissari del giudizio di Dio vi ricordate la prima Pasqua? la prima Pasqua l'angelo di Dio apparve per sterminare i primogeniti d'Egitto o quando Davide peccò a causa del censimento l'angelo di Dio stava per distruggere Gerusalemme nel Nuovo Testamento quando gli angeli intervenivano spesso erano intervenivano per annunciare il giudizio di Dio Maria quindi è preoccupata come tutti gli uomini la sua preoccupazione è comprensibile quando gli uomini vengono messi a contatto con la santità di Dio anche in maniera indiretta sono preoccupati turbati ma l'angelo le disse non temere perché hai trovato grazia grazia presso Dio e con questo termine l'angelo stava spiegando proprio il saluto il saluto era ti saluto favorita dalla grazia e qui dice hai trovato grazia presso Dio che cosa significa favorita dalla grazia è un participio passato vuol dire Maria divenne l'oggetto della grazia di Dio Maria trovò grazia Maria in quel momento ricevette grazia una grazia speciale e questa grazia era che versetto 31 avrebbe concepito e partorito un figlio e gli avrebbe messo nome Gesù che vuol dire Yahweh salva Dio salva quest'adolescente si sarebbe potuta far prendere dal panico perché perché naturalmente avrebbe la prima cosa come lo spiego a Giuseppe mi crederà Giuseppe sono promessa sposa a lui e a quel tempo quando si era promessi sposi soltanto un divorzio poteva dividere il fidanzamento come faccio a spiegarlo a Giuseppe come faccio a spiegarlo ai miei genitori quante persone non crederanno al mio racconto si sarebbe potuta far prendere dal panico e invece risponde versetto capitolo 1 versetto 38 ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua parola una frase che ci dimostra non solo il coraggio di quest'adolescente ma ci dimostra anche la fede la fede perché perché secondo Deuteronomio le donne che erano accusate di fornicazione o adulterio potevano essere lapidate questo era Deuteronomio capitolo 22 Maria qui era poteva essere accusata di adulterio fornicazione ed essere lapidata e invece dice io sono la serva del Signore Dule la forma femminile di Dulos io sono la schiava del Signore Maria è la prima donna in tutto il Nuovo Testamento ad identificarsi come serva del Signore non è soltanto la prima donna non è soltanto nei Vangeli la prima persona in tutto il Nuovo Testamento Maria è la prima persona a identificarsi come schiava del Signore e questo di nuovo la dice lunga sulla sua fede sulla fede di quest'adolescente perché poco prima l'angelo aveva parlato ad un'altra persona Zaccaria e gli aveva detto tua moglie anche se in età avanzata avrà un bambino e Zaccaria non aveva creduto e rimase muto fino al giorno nel quale Giovanni Battista nacque perché non aveva avuto fede e invece qui abbiamo un adolescente che ha fede che crede e dice io sono la serva del Signore un sacerdote Zaccaria che non crede e un adolescente 14-15 anni che dice mi sia fatta secondo la volontà del Signore beh cosa sapeva Maria di cosa era consapevole Maria beh dal testo che abbiamo letto ci sono alcune verità che emergono cosa sapeva cosa credeva su Gesù numero uno Maria credeva che il bimbo che aveva adagiato nella mangiatoia era il Messia era l'unto come lo faceva sapere l'angelo glielo aveva detto versetto 32 e versetto 33 Luca 1-32-33 l'angelo le disse tu concepirai partorirai un figlio gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'altissimo e il Signore gli darà guardate qui la terminologia il trono di Davide suo padre egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine questa è una terminologia dell'antico testamento messianica significa tuo figlio sarà quel re che doveva venire tuo figlio è l'unto è il maschia che significava da un verbo ebraico colui che è stato unto dal Signore per venire a regnare sulla casa di Davide suo padre e Maria sapeva che sia lei che Davide erano della casa della dinastia di Davide e quindi che Gesù era l'erede al trono poteva essere potenzialmente l'erede al trono e quindi qui Maria crede in quello che l'angelo le dice le dice tuo figlio è l'unto tuo figlio è il messia un sogno per le ragazze ebree di quel tempo diventare la madre del messia che doveva venire era un sogno e quindi numero uno crede in questo perché gliel'ha rivelato l'angelo ma crede in questo anche perché da quello che abbiamo letto dopo qualche tempo va a trovare Elisabetta che probabilmente era sua cugina che era incinta e aspettava un bambino Giovanni Battista e quando Elisabetta vede Maria il bambino le balzò in grembo ed Elisabetta disse a Maria come mai mi è dato che la madre del mio signore stava dicendo Elisabetta il bambino che è nel tuo grembo è il signore è il mio signore è l'unto che doveva venire anche se il bambino che aveva nel suo grembo Elisabetta era più grande di Gesù Gesù era il signore di Giovanni Battista e di Elisabetta non solo sapeva che era il messia perché perché dopo la nascita di Giovanni Battista Zaccaria farà un cantico il padre di Giovanni Battista e in questo cantico guardate cosa dice in questo canto capitolo 1 versetto 67 appena dopo la nascita di Giovanni Battista Zaccaria suo padre fu pieno di spirito santo e profetizzò dicendo benedetto sia il signore Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo e guardate versetto 76 e tu bambino cioè tu Giovanni Battista sarai chiamato profeta dell'altissimo perché andrai davanti al signore per preparare le sue vie anche questa è una chiara terminologia messianica e Isaia 40 Giovanni Battista era il profeta che doveva venire il profeta che doveva preparare la via del signore e quindi Zaccaria sta dicendo bambino tu sarai il profeta tu sarai l'elia che doveva venire che preparerà alla via al signore e Maria sapeva che suo figlio era quel messia e infine lo sapeva che era il messia perché perché Maria era un adolescente che conosceva molto bene le scritture nel suo canto al capitolo 1 il cantico di Maria conosciuto come il Magnificat ci sono numerose citazioni dell'antico testamento o numerose allusioni all'antico testamento cita dal dal salmo 107 dal salmo 103 ci sono numerose citazioni allusioni al libro di Isaia anche addirittura la genesi Maria conosceva molto bene l'antico testamento e conosceva conoscendo molto bene il libro di Isaia conosceva questa profezia Isaia 9 5 un bambino un bambino ci è nato un figlio ci è stato dato il dominio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile padre eterno dio potente principe della pace per dare l'incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno Maria conosceva questi passi e questo significa che quando Maria stringeva le piccole spalle di suo figlio Gesù sapeva che su quelle spalle un giorno anzi sapeva che quelle spalle un giorno avrebbero governato il mondo su quelle spalle sarebbe stato il dominio il governo del mondo Maria sapeva che l'impero romano un giorno sarebbe stato messo da parte per fare spazio all'impero al regno di suo figlio Maria sapeva che la pace romana la pace romana che gli imperatori proclamavano a quel tempo non era una vera pace perché sarebbe arrivata la pace del principe di pace suo figlio Gesù Cristo questo era quello che Maria sapeva ecco perché lo trattò come un re nonostante non fosse nato in un palazzo reale guardate capitolo 2 versetto 7 guardate l'espressione che usa Luca e la diede alla luce il suo figlio primogenito lo fasciò e lo corricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo pensate al contesto qui Maria aveva appena fatto aveva appena partorito e aveva appena fatto un viaggio di 150 chilometri da Nazareth a Betlemme all'ultimo mese di gravidanza e non l'aveva fatto in una macchina l'aveva fatto su un somaro probabilmente appena finisce questo viaggio partorisce partorisce una donna quando partorisce è molto debole e la prima cosa che fa lo tratta in modo speciale lo tratta come re lo tratta come messia lo prende lo fascia e lo corica nella mangiatoia questo non era il lavoro delle madri a quel tempo le madri quando partorivano avevano le levatrici quelle che noi oggi chiamiamo le ostetriche che prendevano il bambino lo fasciavano e si occupavano di tutto perché le donne dopo aver partorito erano molto deboli Maria qui sembra volersi prendere lei cura di questo bambino speciale c'è Giuseppe e non chiede neanche aiuto a Giuseppe è lei che si alza fascia il bambino e lo corica nella mangiatoia perché perché sapeva chi era era l'unto il messia che doveva venire Maria lo sapeva io ti chiedo questa mattina lo sai anche tu lo conosci anche tu questo bambino che non nacque in un palazzo reale che non nacque circondato da un'equip medica da un'equip di dottori specializzati nacque in una mangiatoia nacque in una stalla maleodorante circondata da animali che non nacque onorato dalle persone se non dopo dai re magi che un giorno ritornerà perché oggi questo bambino non è più un bambino e tornerà come re come vincitore tornerà come dice Apocalisse per pigiare il tino del vino dell'ira del Dio Onnipotente conosci questo questo uomo questo Dio il figlio di Dio sulla terra Maria lo conosceva Maria sapeva che Gesù era l'unto il messia che doveva venire perché gli era stato detto c'è qualcos'altro che Maria conosceva e lo vediamo al versetto 32 capitolo 1 versetto 32 Maria sapeva che il figlio che aveva partorito era il figlio dell'altissimo non solo il messia ma figlio dell'altissimo versetto 32 questi le dice l'angelo sarà grande sarà chiamato figlio dell'altissimo Maria tuo figlio non è solo tuo figlio è anche figlio di Dio e non poteva essere altrimenti Maria lo sapeva perché non aveva conosciuto uomo fino a quel momento sapeva che quel bambino che aveva nel grembo non poteva essere il risultato di un normale concepimento sapeva che era opera dello spirito santo non aveva avuto rapporti con nessuno e quindi sapeva che quel figlio era anche il figlio di Dio quando Maria accarezzava pensate il viso di suo figlio sapeva di accarezzare il volto del Dio incarnato quando Maria stringeva le mani di suo figlio magari per aiutarlo per insegnargli a camminare sapeva che stava prendendo per le mani il suo signore quando allattava suo figlio sapeva che in qualche modo miracolosamente stava contribuendo alla crescita e allo sviluppo del Dio incarnato del Dio immutabile del Dio che non cambia eppure questo Dio si è incarnato si è sottomesso alle leggi alle regole dell'essere umano della crescita e dello sviluppo e quindi lei stava contribuendo a quella crescita per mezzo del suo latte per mezzo del nutrimento che che gli dava Gesù fu figlio di Dio e figlio di Maria Gesù fu il figlio terreno di suo padre celeste e il figlio celeste della sua madre terrena lo ripeto Gesù fu il figlio terreno di suo padre celeste e il figlio celeste della sua madre terrena alla sua nascita Gesù era antico o meglio eterno come suo padre suo padre celeste ed era anche più antico o meglio più anziano di sua madre alla sua nascita era già più anziano della madre l'umanità e la deità di Gesù sono le due nature che coesistono insieme nella sua unica persona Gesù è una persona formata dalla natura divina e dalla natura umana queste due nature si vedono anche in Isaia 7 versetto 14 quando dice ecco la giovane partorirà un figlio la giovane partorirà questa è l'umanità di Gesù e la giovane lì potrebbe essere tradotto sia giovane ragazza adolescente che vergine e Maria era un adolescente e Maria era una vergine quindi in qualsiasi modo traduciamo questo termine si applica a Maria la giovane partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele Emanuele erano dei nomi che finivano con il nome di Dio El Daniele Ezechiele Emanuele la particolarità di Emanuele era che M è la preposizione con Dio con noi Dio in mezzo a noi questa vergine partorirà questo figlio e questo figlio sarà Dio sulla terra c'è la Deità e l'umanità di Gesù Deità e l'umanità di Gesù che vengono anche spiegate dall'Apostolo Paolo in Galati capitolo 4 versetto 4 quando dice quando giunse la pienezza dei tempi Dio mandò suo figlio il figlio di Dio nato da donna figlio di Dio nato da donna Gesù aveva sembra strano dirlo Gesù aveva il DNA di Maria Gesù probabilmente non abbiamo una sua immagine non abbiamo una sua foto non abbiamo un quadro originale ma Gesù poteva avere probabilmente aveva i tratti somatici di sua madre perché aveva certamente l'eredità genetica di sua madre alcuni studi recenti hanno dimostrato pensate che il DNA mitocondriale della madre è necessario è sufficiente a far sopravvivere il feto nel grembo di una donna cioè dopo che avviene il concepimento quindi diciamo l'unione dei due DNA è sufficiente semplicemente il DNA mitocondriale della madre per far sopravvivere il feto nel grembo della madre quello che probabilmente è successo è che lo Spirito Santo ha fatto concepire nel grembo di Maria Gesù e Gesù in quel momento era una persona con due nature ma il DNA della madre fu sufficiente a farlo crescere e svilupparlo nel grembo di Maria ed è importante credere questo è importante credere che Gesù fosse figlio di Maria è importante credere che Gesù fosse al cento per cento uomo perché Ebrei 2 17 dice egli doveva divenire simile ai suoi fratelli in ogni cosa in ogni cosa Gesù infatti sperimentò tutto tutte quelle azioni che noi uomini o donne sperimentiamo che noi esseri umani sperimentiamo Gesù sperimentò la nascita Gesù sperimentò la crescita l'essere esausto la fame la sete le emozioni la gioia il pianto l'ira Gesù sperimentò la tristezza la compassione la gioia la tentazione la preghiera la morte Gesù sperimentò tutto ciò che gli esseri umani sperimentarono perché? perché era figlio di Maria un uomo aveva due nature una natura umana e una natura divina e quello che vediamo è che più Gesù cresce più diventa grande e più il rapporto con la sua famiglia in un certo senso diventa più distaccato perché? perché doveva adempiere la missione che il suo padre celeste gli aveva affidato quando Giuseppe e Maria lo ritrovano a 12 anni al tempio vi ricordate? a quell'età avere 12 anni significava essere adulti veniva celebrata con il bar mitzvah il bambino diventava adulto e Maria dopo tre giorni lo ritrovò e gli disse figlio perché ci hai fatto così? ecco tuo padre io angosciati ti cercavamo e Gesù rispose perché mi cercavate? non sapevate ecco non sapevate voi non vi era stato detto dall'angelo? non sapevate voi che io devo occuparmi delle cose del padre mio? più Gesù diventa grande e più sa che deve onorare la missione che il padre celeste gli aveva affidato Gesù era al 100% Dio al 100% uomo Gesù era Dio come se non fosse mai stato uomo e Gesù era uomo come se non fosse mai stato Dio 100% Dio 100% uomo perché? perché soltanto Dio poteva morire in maniera infinita per i peccati di tutti gli uomini e soltanto l'uomo Gesù Cristo poteva morire come sostituto degli uomini soltanto un uomo poteva prendere le colpe degli uomini e morire al posto loro e soltanto Dio poteva morire in maniera infinita per i peccati degli uomini e allora se non credi in Gesù come Dio mi dispiace dirlo Dio non può prendere la tua colpa e se non credi in Gesù come uomo l'uomo Gesù non può morire al posto tuo soltanto il figlio di Dio poteva farlo nessun angelo poteva farlo nessun apostolo nessun profeta neanche l'arcangelo soltanto il figlio di Dio era al 100% Dio e uomo e poteva interporsi tra l'ira di Dio e il peccato degli uomini questo era quello che Maria sapeva c'era una terza cosa una terza verità che Maria conosceva e questa la troviamo in diversi versetti che abbiamo letto ed è questo numero 3 abbiamo detto numero 1 Maria sapeva che Gesù era il Messia Maria sapeva che Gesù era il figlio dell'altissimo numero 3 Maria sapeva che il bimbo che aveva messo al mondo avrebbe liberato il mondo il bimbo che aveva messo al mondo avrebbe liberato il mondo come faceva a saperlo beh pensate al nome Gesù l'angelo le disse gli porrai nome Gesù che vuol dire Yahweh salva Dio salva Maria tuo figlio sarà il salvatore il liberatore non solo l'aveva detto anche a Giuseppe poco tempo dopo l'angelo apparve a Giuseppe le disse capitolo 1 di Matteo versetto 21 Giuseppe voleva lasciare Maria e l'angelo le disse ella partorirà un figlio gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il popolo dai peccati Maria tuo figlio anzi Giuseppe tuo figlio salverà il popolo dai peccati lui è il salvatore e sapete tutta la storia di Israele aveva un filo conduttore il liberatore che doveva venire il salvatore che doveva venire addirittura dai tempi di Eva dai tempi di Genesi 4 in Genesi 3 viene detto ad Adamo ed Eva avrai una discendenza che schiaccerà la testa al serpente in Genesi 4 Eva partorisce un figlio Caino e dice ho partorito un figlio con l'aiuto del Signore con l'aiuto non c'è nell'originale lo abbiamo messo per rendere più diciamo logica quella frase in realtà si dovrebbe tradurre ho partorito un figlio il Signore sapete cosa vuol dire che quando Eva partorì quel figlio quando Eva partorì quel figlio Caino pensò forse è lui il liberatore ho partorito un figlio il Signore l'unto forse il liberatore è già arrivato ma noi sappiamo che Caino non fu quel liberatore quando arriviamo alla storia dei giudici cos'è la storia dei giudici la storia di liberatori i giudici in ebraico erano liberatori dovevano liberare il popolo politicamente e spiritualmente ma falliscono perché non riescono a liberarlo politicamente e non riescono a liberarlo spiritualmente perché erano peccatori si veda la storia di Sansone di Gedeone i liberatori falliscono e c'è questa grande attesa quando arriverà questo liberatore quando arriverà questo salvatore a Maria le viene detto tuo figlio è quel salvatore tuo figlio è il salvatore del mondo e questo viene detto anche dai pastori al capitolo 2 versetto 10 questo tema del salvatore viene ripreso Luca 2 10 gli angeli appaiono a questi pastori e l'angelo disse loro non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella città di Davide è nato per voi un salvatore che è Cristo il Signore e che fanno gli angeli non rimangono lì vanno da Maria vanno da Maria e Giuseppe a Betlemme capito versetto 15 quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro andiamo fino a Betlemme vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino e tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette dai loro dai pastori e versetto 19 Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo questi pastori vanno da Maria e da Giuseppe e dicono guardate che gli angeli ci sono apparsi e ci hanno detto che questo bambino è il salvatore e Maria che ha fatto ha serbato questo nel suo cuore ha trattenuto questo nel suo cuore ha creduto in quel messaggio il messaggio era tuo figlio salverà il mondo dai peccati dai loro peccati e naturalmente questo abbiamo letto viene ripreso anche da Simeone quando Gesù arriva al Tempio e Simeone lo prende in braccio e dice versetto 29 Luca 2,29 ora o mio signore tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza guardare Gesù negli occhi equivaleva a dire ho visto la salvezza di Dio ho visto Gesù ho visto il salvatore ho visto la salvezza che è venuta sulla terra Maria sapeva di aver dato vita a colui che le avrebbe dato vita eterna Maria sapeva di aver generato colui che l'avrebbe rigenerata Maria sapeva in un certo senso che aveva partorito colui che l'avrebbe fatta nascere di nuovo e la salvezza qui notate quella salvezza di cui parla Simeone qui è una salvezza non solo per il popolo di Israele Simeone dice che hai preparata dinanzi a tutti i popoli Simeone qui sta profetizzando ripieno di spirito santo che questo salvatore non era venuto solo per Israele era venuto per tutti i popoli ed è venuto per tutti i popoli non importa chi tu sia se tu sei bianco nero giallo rosso se tu sei istruito analfabeta se sei grande o piccolo se sei ricco o povero se sei potente o non vali nulla la salvezza che Dio ha portata dal salvatore Gesù Cristo è per tutti gli uomini è per qualsiasi persona se sei un essere umano sei un peccatore hai bisogno di essere salvato dai tuoi peccati Gesù è venuto per questo e Maria lo sapeva e così Maria sapeva numero uno che Gesù era il Messia sapeva che Gesù era il figlio del Dio Altissimo era figlio suo ma era anche figlio di Dio Maria sapeva che Gesù avrebbe liberato il mondo dai peccati avrebbe salvato il mondo e in tutto questo Maria è piena di gioia infatti nel suo canto il Magnifica dice l'anima mia esulta lo spirito mio gioisce Maria è fino a questo momento piena di gioia e allegrezza ma c'è una quarta verità che Maria viene a sapere e qui è dove la gioia di Maria viene mista a tristezza c'è una quarta verità Maria sapeva che quel figlio le avrebbe procurato un dolore atroce un dolore atroce che quindi la sua vita di madre sarebbe stata per sempre perseguitata da questo dolore Maria abbiamo detto prima conosceva molto bene le scritture conosceva il libro di Isaia molto bene perché lo cita molto spesso o allude ad esso molto spesso conosceva Isaia 53 che è un canto al Messia al servo del Signore è il canto del servo sofferente abbiamo detto Maria sapeva che Gesù era il Messia sapeva Isaia 53 che il Messia era sofferente che il Messia doveva soffrire sarebbe stato abbandonato da tutti disprezzato dagli uomini sarebbe stato portato davanti ai suoi tosatori come una pecora che doveva essere uccisa Maria conosceva le sofferenze del Messia sapeva che questo figlio avrebbe sofferto ma sappiamo una madre spera sempre il meglio una madre spera sempre che alla fine le cose si aggiusteranno l'amore spera ogni cosa la madre spera che questo figlio alla fine sarebbe stato accolto riconosciuto sarebbe diventato il re dopo tutto l'angelo gli aveva detto che sarebbe diventato re una mamma spera come ogni madre che il figlio avrebbe avuto il meglio fino al giorno in cui questa unica speranza che aveva che le cose alla fine sarebbero andate per il verso giusto questa speranza le viene tolta la sua speranza morì pensate 40 giorni dopo la nascita di Gesù 40 giorni dopo dopo 40 giorni un bambino doveva essere presentato al tempio e doveva essere presentato davanti al Signore e così dopo 40 giorni Maria e Giuseppe fanno un altro viaggio avevano fatto il viaggio da Nazareth a Betlemme 150 chilometri Maria partorisce 40 giorni e tornano a Gerusalemme immaginate il turbine di emozioni di questa donna le era stato detto che il bambino era il re ed è nato in una mangiatoia le era stato detto che era il salvatore eppure adesso vanno al tempio attraversano la città di Gerusalemme arrivano vicino alla parte nord ovest dove c'era il tempio devono presentare l'offerta per questo bambino e l'offerta doveva essere un agnello poteva essere anche un'offerta di due piccioni o due tortere se la coppia era estremamente povera ma il figlio è il figlio di Dio e il figlio di Dio è il Messia è il re il figlio di Davide Maria si aspetta probabilmente che verrà offerto un agnello il massimo che si poteva offrire e invece vede che Giuseppe si avvicina ad uno dei mercanti che stavano lì davanti al tempio e va a comprare due tortore o due piccioni perché non avevano la capacità economica per comprare un agnello immaginate la scena che vede Maria davanti al tempio sangue 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 turbine di emozioni in questa donna all'improvviso si avvicina un uomo un uomo anziano quest'uomo si chiamava Simeone Dio gli aveva rivelato non morirai prima di aver visto il salvatore e abbiamo letto questo signore questo uomo anziano prende in braccio il bambino dice i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio e poi si rivolge a Maria poi guarda Maria negli occhi e le dice questo capitolo 2 Luca 2 versetto 34 Luca 2 34 ecco egli è posto a cadute al rialzamento di molti in Israele cara Maria tuo figlio sarà occasione di caduta per molte persone molti cadranno molti si alzeranno si rialzeranno ma molti cadranno a causa di questo bambino come segno di contraddizione c'è una lotta c'è un conflitto ci sarà un conflitto in atto e poi le dice versetto 35 e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché i pensieri di molti cuori siano svelati riuscite a immaginare la drammatica consapevolezza di questa donna che sapeva dopo 40 giorni che suo figlio era nato che il Messie era nato che un giorno una spada le avrebbe trafitto l'anima riuscite a immaginare la drammatica consapevolezza di questa donna che sapeva che la missione del figlio avrebbe creato sempre più nemici al figlio e questi nemici avrebbero fatto la guerra al figlio fino al giorno in cui il figlio sarebbe stato ucciso proprio come il servo di Isaia 53 e a lei una spada avrebbe trafitto l'anima ogni giorno si svegliava e pensava probabilmente quando arriverà quel giorno forse solo le madri o forse solo le donne riescono a comprendere questa drammatica consapevolezza questa drammatica conoscenza che Maria aveva a riguardo di suo figlio è qui che la gioia viene mista a tristezza e notate durante tutto il ministero di Gesù non troviamo quasi mai Maria vicino a Gesù nei Vangeli è quasi assente ogni tanto c'è qualche episodio raro dove la vediamo nel contesto ma non la vediamo mai accanto mai vicino la ritroviamo alla fine dei Vangeli la ritroviamo ai piedi della croce la ritroviamo alla fine di ogni Vangelo che sta lì mentre il figlio era crocifisso ai piedi della croce insieme ad altre donne e insieme a Giovanni il discepolo che Gesù amava la ritroviamo ai piedi della croce mentre osserva la lenta agonia del figlio la crocifissione era una morte crudele era una morte molto brutta le persone crocifisse morivano di una lenta agonia era una morte agonizzante e Maria è lì che guarda questa scena e mentre potremmo dire mentre i chiodi penetrarono nelle mani di Gesù e mentre i chiodi penetrarono nei piedi di Gesù è come se una lama avesse penetrato il suo cuore la sua anima quando quel soldato si avvicinò a Gesù e con efferata crudeltà a freddezza trafisse il costato di Gesù con una lancia in quel momento è come se una spada avesse trafitto l'anima di Maria perché si trova lì ogni madre ha un istinto di protezione verso il figlio avrà pensato forse fino alla fine riuscirò a proteggerlo forse fino alla fine riuscirò a risparmiargli questa questa brutta fine ma non può risparmiargli era nel suo destino era nella sua missione e notate la compassione di Gesù in quei momenti verso la madre Gesù ebbe compassione verso di lei e guardò in un certo senso il disprezzo che le persone avevano non solo verso di lui ma anche avrebbero avuto verso la madre Maria verrà accusata di essere la madre dell'impostore la madre del falso profeta più tardi verrà accusata dagli ebrei di essere di aver avuto rapporti sessuali con un soldato romano e aver avuto Gesù tramite un soldato romano Gesù vedendo la sofferenza della madre e vedendo lo stigma sociale che sarebbe arrivato sulla madre dice a Giovanni il discepolo che amava ecco tua madre ecco tua madre e da allora il discepolo la prese in casa sua e a questo punto la tradizione si divide ritroviamo Maria in atti 1 che è con i discepoli nella sala di sopra alcuni dicono che sia rimasta a Gerusalemme fino con l'apostolo Giovanni fino alla sua morte e che sia morta a Gerusalemme e altri dicono che sia andata con l'apostolo Giovanni ad Efeso e che sia morta lì ad Efeso insieme all'apostolo Giovanni che rimarrà lì per qualche per qualche anno a fare ministero Calvino disse a riguardo di Maria non può essere negato che Dio nello scegliere Maria e nell'averla destinata ad essere la madre di suo figlio le concesse il più alto onore il più alto onore che si può concedere ad una donna ad una persona sulla terra di avere nel grembo il figlio di Dio di trasmettere a questo bambino parte del suo DNA e di crescerlo per i primi anni della sua vita un privilegio unico che nessuno potrà sicuramente avere anche al tempo di Gesù alcuni riconobbero questo privilegio una donna un giorno disse a Gesù beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti questa donna vide Gesù e disse Gesù beata tua madre la madre del Messia ha una benedizione una beatitudine unica e Gesù rispose beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica Maria ebbe un privilegio unico ma c'è un'opportunità per tutti gli uomini di essere benedetti ancora di più di Maria ed è questo che conosciate la volontà di Dio che facciate la volontà di Dio che ascoltiate la parola di Dio e la volontà di Dio è questa che crediate in colui che egli ha mandato Gesù Cristo questo è l'unico modo per poter essere benedetti in un modo ancora maggiore dell'onore del privilegio e della benedizione unica che questa donna ha avuto nella sua vita c'è un modo per essere benedetti e pensate in conclusione se questa mattina credi in Gesù Cristo se questa mattina ti penti dei tuoi peccati Dio ti dà lo Spirito Santo e si avvererà per te quello che era stato detto dall'angelo nel saluto a Maria l'angelo le aveva detto ti saluto favorita dalla grazia il Signore è con te se credi in Gesù Cristo questa mattina sei favorito dalla grazia ricevi la grazia di Dio e numero due il Signore è con te lo Spirito Santo verrà a dimorare dentro di te verrai adottato nella famiglia di Dio e sarai per sempre un figlio di Dio spero che questo possa essere l'augurio di questo buon Natale che tutti voi possiate essere favoriti dalla grazia e che tutti voi possiate avere Dio con voi Dio che vive dentro di voi Signore grazie per la tua parola per quello che tu hai rivelato duemila anni fa per mezzo di un angelo a questa donna e non solo a questa donna ma a tante persone grazie perché Gesù Cristo è il Messia è l'unto che doveva venire è il figlio del Dio Altissimo ma è anche figlio dell'uomo figlio sofferente servo sofferente ti ringraziamo perché lui è il liberatore il salvatore del mondo e ti ringraziamo perché lui è venuto a morire per noi e sappiamo che questo ha generato ha procurato un dolore immane in Maria ma procura una gioia immensa e infinita nei nostri cuori perché sappiamo che è morto per noi è morto al posto nostro Signore ti ringraziamo per questo ti lo diamo in Cristo Gesù Amen